buonasera a tutti a voi di film meetings a tutti coloro che partecipano alla proiezione dell'arena dell'inedito di alfonsine io sono nicolò castelli sono il regista del film atlas che vedrete fa poco mi dispiace non essere con voi sono come vedete in montagna nelle montagne svizzere quelle che scoprirete fra poco nel film che ringrazio avete selezionato voi di film meetings vi ringrazio molto per mostrare anche in quella bellissima regione regione che visitavo ai tempi di miei primi studi ho studiato a bologna vengo da lugano dalla svizzera e sono cresciuto però come vedete appunto in parte qui in montagna e ho voluto utilizzare la metà della forza della montagna ho voluto raccontare anche le mie montagne una parte del film l'abbiamo proprio girata una piccola scena in inverno che vedrete l'abbiamo girata proprio un mattino alle 4 io e l'attore protagonista siamo saliti da soli proprio qua sopra sopra di me circa mille metri più in alto in una montagna qua sopra ho voluto raccontarle perché sono parte della mia esperienza e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti